Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi, video super veloce Solo per annunciarvi che domani mattina Alle ore 10.30 circa Sarò in diretta su Twitch Ritorno su Twitch E l'altra cosa che vi volevo dire È che su Twitch porterò tutte le cose Ci sono anche delle cose che porterò Più che altro qui su YouTube come Fall Guys Ragazzi ho registrato un video Che uscirà domani pomeriggio alle ore 15.16 Cioè domani pomeriggio, l'orario non lo so ancora E quindi uscirà anche Fall Guys Ma soprattutto faremo una mega carriera completa Quindi oltre 100 partite di carriera Di NBA Chuket 21 Con i Golden Streets Audio Quindi con Clay Thompson Con Curry Faremo una bellissima carriera Assicurato quindi non perdetevela Ovviamente poi porteremo come ho detto anche Fall Guys Porteremo un gioco che ho in anteprima Quindi ve lo svelerò qui su YouTube Il mio primissimo gioco che proverò in anteprima E che altro Porterò anche ovviamente Formula 1 Faremo anche delle dirette magari dove parleremo di Formula 1 Quindi del Just Chatting Quindi faremo tante cose Questa volta sarà la volta buona Porteremo tutto E sto facendo veramente tutto con calma Proprio per il fatto che voglio che sia tutto perfetto Cosa che sto realizzando Come avete visto magari se mi seguite Su Instagram Vi ho svelato il logo Io mi chiamo Alex54 Trattino basso Motori Sono il primo che esce Si ragazzi ho 3 iscritti al momento Quindi vi aspetto Tutti quanti Su Twitch domani mattina Da domani mattina Infatti poi faremo tante tante live Insieme Anche su Fall Guys Quasi sicuramente Visto che ora è diventato gratis per tutti Se avete un po' di spazio sul vostro PC O magari se avete un po' di spazio Un po' di spazio Su Su Madonna Su Xbox O su Playstation Scaricatevelo ragazzi Perché quasi sicuramente poi andremo a giocare insieme Quindi Noi come ho detto Ci vediamo domani mattina Grazie mille per aver visto questo video Grazie mille per i 319 iscritti Si va sempre più avanti Grazie di tutto E quindi ci vediamo domani Per un prossimo video Ciao